Ok, facciamolo. All'incirca un anno fa feci un video dove annunciai l'apertura del programma abbonamenti e ancora mi stupisco di come tanta gente sia rimasta nel programma abbonamenti dopo un anno. A parte di scherzi, in quel video spiegavo un po' la storia di Whatsapp Economy, come era andata fino ad allora e i miei progetti futuri. E in quello stesso video annunciavo anche un po' un cambio del logo di Whatsapp Economy. Infatti, nell'immagine del profilo, prima c'era il mio bel faccione e lo cambiai. Lo cambiai con l'attuale logo di Whatsapp Economy, ma non lo cambiai perché mi vergognavo della mia faccia. Perché è una faccia, insomma, interessante. A parte di scherzi, lo cambiavo perché vedevo il progetto di Whatsapp Economy come un progetto corale, un progetto in cui potevano far parte diverse persone in modo da aiutarmi a divulgare al meglio la materia, in quanto la materia è estremamente vasta e ovviamente io da solo non riesco ad avere tutte le competenze per divulgare al meglio ogni singolo ramo o notizia in campo economico. Sapete, una delle mie virtù, ma allo stesso tempo uno dei miei grandi difetti è quello di pensare in grande. Non c'è una singola idea, progetto anche nella vita quotidiana in cui rimango con i piedi per terra. E anche lo stesso modo vale per il progetto di Whatsapp Economy, che non è mai stato nella mia mente un progetto di one man show, il progetto dello youtuber. Fino adesso lo è stato, ma nella mia mente è stato sempre qualcosa di più e pian piano sto cercando di realizzarlo. Ad esempio, molti licei mi hanno chiamato ultimamente per presenziare nelle loro classi in modo da parlare di divulgazione economica, temi economici, attualità e anche educazione finanziaria. Purtroppo online, ma spero che in un futuro lo si possa fare anche in presenza. E la cosa mi interessa parecchio in quanto ho un sacco di idee da proporre ai ragazzi del liceo in modo da avvicinarsi a questa materia. È l'educazione finanziaria che allo stesso modo è estremamente importante per la crescita economica e sociale di un paese intero. Ma oltre a questo progetto di divulgazione in licei ne ho tanti altri che ovviamente non potrei fare rimanendo da solo. Quindi team è un approccio da startup, ma persone competenti bisogna comunque ricompensarle, soprattutto da un punto di vista economico. E fino a quel momento purtroppo non avevo alcuna disponibilità da poter dare a chi mi potesse aiutare. Cosa che invece attualmente sono riuscito finalmente ad avere. Infatti grazie agli abbonati che ormai come abbiamo detto più da un anno che mi sostengono e anche agli sponsor che avete visto in questi video sono riuscito ad avere una certa disponibilità economica da investire nel progetto proprio andando a cercare un collaboratore che mi aiuti nel mio progetto di divulgazione economica. Il collaboratore che sto cercando entrerà a far parte del progetto in maniera graduale. Innanzitutto farà la parte di revisore ai miei video in modo che io possa sparare meno cagate possibili e quindi praticamente ci sarà un ulteriore filtro in modo che i contenuti all'interno del canale siano ancora più accurati. E poi andrà a gestire anche la pagina Instagram di Whatsapp Economy che ad oggi è ancora con molte potenzialità in espresse. Se la collaborazione continuerà in maniera proficua, efficace e felice sicuramente la scalata continuerà fino ad arrivare a scrivere video e a registrare video. Quindi la possibilità è quella di avere un ulteriore volto di Whatsapp Economy oltre a me che fa video e crea contenuti per la community del progetto. Ma chi è che sto cercando? Beh, sto cercando una persona che abbia una laurea triennale in scienze economiche, finanza o management e preferibilmente che fosse anche uno studente magistrale in uno di questi tre indirizzi. Che sappia utilizzare Photoshop nulla di eclatante ma che un minimo sappia fare delle immagini da poi di poter caricare su Instagram è ovviamente l'utilizzo della lingua inglese. In particolar modo essenziale è il reading in quanto vi darò tutti gli strumenti per poter reperire le fonti, per poter svolgere il proprio lavoro e ovviamente una buona parte di queste fonti sono in inglese, dai giornali alle riviste scientifiche ai paper eccetera eccetera. E anche la voglia di stare davanti alla telecamera, insomma ovviamente non sto cercando un attore però neanche una persona timida e introversa che non sa stare davanti alla telecamera e a conversare con le persone. Ovviamente le cose si imparano facendo quindi non pretendo nulla di eclatante però un minimo di volontà ci sta sicuramente perché come vi dicevo il progetto è quello di poi portare il collaboratore anche lui davanti alla telecamera in modo da creare un secondo volto di Whatsapp Economy. Queste le hard skill, invece per le soft skill sto cercando una persona curiosa e con tanta voglia di imparare sempre cose nuove perché ovviamente stando sempre a contatto con l'attualità ci saranno sempre cose che magari non si conoscono o che bisogna approfondire e quindi questo è sicuramente un elemento importante. Un'altra soft skill secondo me fondamentale per fare questo lavoro è avere un approccio critico nei confronti della realtà e quindi avere una buona cultura del dubbio e del metodo scientifico. Infatti non sto cercando persone con qualche tipo di ideologia economica o qualche tipo di dogma anzi tutt'altro state il più possibile allontana da me se siete questo tipo di persone. Sto cercando persone che sappiano essere curiose di come funziona il mondo e cercare appunto di capirlo nella maniera più scientifica possibile. Altre caratteristiche, umiltà, pazienza, simpatia perché ovviamente fa parte del nostro lavoro e anche persone alla mano in quanto non ho voglia di lavorare insieme a delle persone che si fanno le fighe, se la tirano eccetera eccetera. Super scialli, super tranquilli, impariamo insieme, cerchiamo di migliorarci a vicenda insomma voglio che ci sia un ambiente di lavoro super tranquillo che sia autogenerante insomma che ognuno stimoli l'altro a fare di meglio senza che scendiamo in paragoni eccetera eccetera. Io mi voglio soprattutto divertire facendo questo lavoro e spero di trovare allo stesso modo una persona che abbia la stessa volontà e ovviamente come vi dicevo ho una buona capacità di fare team building e quindi di creare un buon ambiente di lavoro. Adesso andiamo a vedere come Whatsapp Economy sceglierà il nuovo collaboratore sperando che il mio esame di performance management e questo libro di risorse umane mi sia servito a qualcosa. Però essendo la mia prima volta magari sbaglierò qualcosa. Avrete a disposizione due settimane di tempo per poter mandare alla mail whatsappeconomy.com il vostro curriculum. Mi raccomando curriculum al più di una pagina, non leggo curriculum più lunghi di una pagina, è fondamentale. Quindi due settimane di tempo per questo step. Fatta questa prima scrematura c'è un secondo step che consiste nello scrivere un vero e proprio video a tema economico su un tema d'attualità di quel periodo scelto da voi. Quindi voi mi inviate questo copione di video, io lo leggerò e si passerà poi successivamente alla terza fase di selezione che saranno i colloqui con me. Colloqui in cui chiacchiereremo, vedremo un po' di cose e poi alla fine mi farò un'idea generale e sceglierò il collaboratore che mi aiuterà in questo progetto di divulgazione economica. Lo so, per alcuni di voi questo sistema di selezione potrebbe essere un po' macchinoso, un po' lungo, però diciamo che l'ho ideato in quanto ci tengo a scegliere la persona a prima botta, cercando di creare meno intoppi possibili in questo percorso di crescita. Anche perché bisogna vedere che in questo business una risorsa fondamentale è proprio il capitale umano, le persone che sono dentro a questo progetto e ovviamente quindi di conseguenza la selezione di queste persone è un processo fondamentale e importante e delicato e quindi di conseguenza bisogna applicare anche dei meccanismi adeguati. Per di più, dietro questa scelta c'è anche un investimento economico da parte mia ovviamente non voglio dare i miei soldi al primo che passa in quanto voglio che ogni minimo euro che andrò a spendere sia il meno possibile sprecato. Terzo ordine di ragione, forse il più importante, faccio il cazzo che mi pare, ok? Alla fine di tutta questa storia quindi sceglierò un collaboratore che all'inizio dovrà assumersi un impegno sostanzialmente part-time, non richiedo particolari impegni, soprattutto all'inizio, ma se poi vediamo che funziona la cosa ovviamente le prospettive sono quelle di lavorare sempre di più e sempre più spesso. Ovviamente come vi dicevo ci sarà un compenso per questo lavoro che non richiede comunque l'apertura della partita IVA, poi vi spiegherò più in dettaglio per chi sarà insomma il fortunato collaboratore di WhatsApp Economy. Se però vedo che molti ragazzi in gamba hanno partecipato a questa iniziativa potrei anche decidere di aprire un secondo gruppo di collaboratori che potrei chiamare a seconda delle esigenze e delle necessità. Ovviamente tutto pagando qualsiasi contributo a questo progetto di divulgazione economica. Detto ciò spero di avervi detto tutto, se ci sono ulteriori dubbi qui nei commenti o se proprio dovete mandarmi un'email più coincisa possibile in quanto immagino che nelle prossime settimane di email ne avrò abbastanza da leggere. E niente, io non vedo l'ora di poter collaborare con una nuova persona in quanto lavorare da solo mi stava praticamente uccidendo e gli abbonati lo sanno in quanto racconto un po' i dietro le quinte con il format diario di bordo che è un contenuto esclusivo per gli abbonati. E dai, non vedo l'ora, ci sono altre novità che stanno arrivando e spero di mostrarvele pian piano e che questo progetto possa iniziare a fare quei passettini in più che sono sicuramente interessanti e che secondo me potranno dare tante soddisfazioni sia a me sia alle persone che potranno collaborare con me e sia alla community intera di Whatsapp Economy. Detto ciò vi saluto, vi ringrazio e alla prossima! Ciao! Ciao!